Riforma della PAC e sostenibilità ambientale bilaterale tra Lollobrigida e Wojciowski. Si è tenuto un incontro bilaterale tra il Ministro dell'Agricoltura e della Soranità Alimentare delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e il Commissario Europeo all'Agricoltura e allo Zuppo Rurale, Janusz Wojciowski, su temi di grande rilevanza per il settore agricolo, anche in riferimento alla implementazione della revisione della politica agricola comune. Il colloquio ha permesso di riflettere sulle politiche agricole attuate dalla precedente Commissione, con particolare attenzione alla riforma della politica agricola comune e alle misure per la sostenibilità ambientale. In modo particolare le due parti si sono confrontate sulla implementazione delle modifiche alla messa a riposo obbligatoria delle superfici asseminativo, la cui entrata in vigore è stata slittata dalla Commissione dal 2024 al 2025.